Ciao da Avsim, ci ha detto bene ragazzi, ci è andata veramente veramente bene Ci è andata bene, ci è andata veramente bene in questa partita Un 1-1 d'oro, un pareggio d'oro con gol fuori casa Perché l'Ajax ha meritato di vincere L'Ajax ha nettamente meritato di vincere Abbiamo visto una partita che è stata praticamente una riedizione modificata Dell'andata contro l'Atletico Madrid È stata una riedizione dell'andata contro l'Atletico Madrid Non so se è perché la trasferta, se era questa maglia, se era la Rai Non lo so, possiamo fare tutta l'ironia che vogliamo Ma ancora, ancora, ancora una volta Questa squadra anche in Champions League si è presentata a giocare una partita importante Senza averla adeguatamente preparata Io arriverò veramente alla stanchezza proprio più totale nel dire queste cose E non verrò ascoltato Anzi, quando dico queste cose mi si dice che io ce l'ho con l'allenatore Io però voglio subito spezzare una lancia in favore di Allegri Per quanto riguarda i cambi Perché mi ha sorpreso in positivo, non mi sarei mai aspettato Che mettesse Douglas Costa al posto di Mandzukic Che togliesse dal campo Mandzukic A Mandzukic ci arriviamo tra poco E che mettesse Dybala quando si è fatto male Matuidi Al posto di Matuidi mi sarei aspettato Chiedira Ora però i cambi non hanno modificato la partita Dybala ha preso tre palloni Forse quattro di cui uno in difesa Uno in difesa vicino alla bandierina del corner E Douglas Costa ha fatto un grandissimo elastico con tunnel Però inutile perché non abbiamo continuato l'azione E poi ha preso un palo clamoroso che grida vendetta Grida vendetta però gridano vendetta anche le parate di Cesni Grida vendetta un paio di tiri fuori di pochissimo da parte dell'Ajax Il tiro respinto in corner di Rugani nel finale Le tantissime azioni dell'Ajax dentro la nostra area di rigore Quindi non possiamo andare a recriminare per quel palo Non possiamo andare a recriminare per il rigore su Bentancur Che c'era, che c'era, che c'era nel secondo tempo Non possiamo recriminare per i nostri tiri finiti fuori di nulla Di cui quello di Bernardeschi nel primo tempo deviato E non ci hanno dato corner Arbitraggio da questo punto di vista molto, molto, molto discutibile Ci hanno negato anche una punizione dal limite sinistro dell'area Nel primo tempo per falo di Schoene su Bernardeschi Schoene che è uscito dal campo sostituito Non so per quale miracolo Perché ha rischiato seriamente il secondo giallo e l'espulsione Ma non voglio parlare dell'arbitro Tornando a noi, ripeto Non possiamo assolutamente pensare che questa partita Noi abbiamo meritato di pareggiarla Non abbiamo meritato di pareggiarla Naturalmente non abbiamo neanche meritato di vincere Abbiamo meritato di perderla Dobbiamo fare una statua Cesdi Abbiamo fatto praticamente quanto? Due tiri in porta? Due? Cioè troppo, troppo, troppo poco Ma siamo partiti proprio male Cioè la Juve è partita malissimo La prima mezz'ora almeno è stata veramente oscena Veramente oscena Con in particolare alcuni giocatori totalmente in bambola Su questi soprattutto Cancero e Alexandro Pjanic è cresciuto molto nel corso della partita Ma ha sbagliato tutte, tutte, tutte le coperture Lasciava sempre 5 metri 5 metri, 3 metri all'avversario che riceveva il pallone Ha consentito tiri e verticalizzazioni Si è fatto stringere in mezzo negli 1-2 Veramente male, male, male Benissimo Matuidi Ha fatto una partita lineare come rendimento Senza cali e ad alto livello Ha giocato molto 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 bene Con grande corsa anche Ha fatto anche degli ottimi recuperi palla In generale la Juve ha fatto tantissimi intercetti Nel corso della partita Molti alti anche da parte di Bentancur Che ha fatto pure lui secondo me un'ottima partita E ha partecipato al bellissimo gol di Cristiano Che ci aveva lasciati con una tripletta Poi per un mese non ha giocato E è tornato e ha segnato Altro gol decisivo Ma perché lui è lui Perché Cristiano è Cristiano Ronaldo è Ronaldo E non per qualcosa di merito nostro Anche se l'azione è stata bella Con assist di Cancelo Che è stata poi una cattedrale nel deserto Perché appena è ricominciato il secondo tempo Cosa fa Cancelo? Cosa fa Cancelo? Che cazzata fa Cancelo? Insopportabile, inguardabile Costringe poi nel secondo tempo un paio di volte Anche Rugani ad andare a chiudere sul Neres Rugani non deve andare a chiudere sul Neres Se Neres proviene dalla fascia Perché se siamo a difesa schierata L'uomo che viene dalla fascia Deve prenderlo il terzino Quindi partita negativa Di Cancelo tolto l'assist Il cross di Trivela non me ne frega niente Perché non stiamo qui a fare i cross di Trivela Così come non stiamo a fare l'elastico Con tunnel incorporato da parte di Douglas Costa Stiamo a giocare una partita di calcio In cui dobbiamo costruire gioco e andare a segnare Ora voi avete visto la Juve costruire gioco? No No Ma non saperlo fare Non avere la minima idea di cosa fare Quante volte io sono stato qui Nelle post partita Nelle analisi tattiche A dire la Juve non ha la minima idea Di cosa fare col pallone tra i piedi Quanto è vera questa affermazione stasera? Purtroppo Troppo Tanto, tanto e troppo Tanto, tanto e troppo Non è entrato Ken Poteva essere un cambio decisivo Magari la metteva dentro Però non faccio tanto colpe ad Allegri su questo Perché onestamente a un certo punto Per mettere Ken dovevi togliere Ronaldo Perché non potevi togliere Bernardeschi Altrimenti facevi un 4-4-2 con due centravanti Era difficile da gestire Ma il punto non è questo Non è il modulo Non sono gli interpreti Il punto è la preparazione tattica di questa squadra Che non c'è Allora dovete capire Dobbiamo accettare l'idea Perché è così Che questo allenatore Per mentalità Per mentalità Rivendicata da lui stesso Da lui stesso scritta nero su bianco Affermata a chiare lettere più volte Non prepara le partite Non prepara le partite Non prepara le partite La preparazione tattica delle partite Da parte di Allegri È lasciata all'improvvisazione individuale Perché lui per sua filosofia di vita Lascia ai giocatori l'inventiva Ma l'inventiva può andar bene Quando giochi con una squadra inferiore Quando ti capita una giocata Particolarmente favorevole Ma quando si tratta di affrontare Una squadra così organizzata Hai bisogno di un'altra cosa Che si chiama sistema Che si chiama schema Che si chiama organizzazione Che si chiama come volete voi Ma non è quello che abbiamo visto in campo Non è assolutamente questo Ajax è incomiabile Da applausi Hanno fatto una bellissima partita Forse migliori di quella Che avevano fatto all'andata Contro il Real Madrid Dove hanno perso 2 a 1 Perché lì crearono Un'infinità di occasioni da gol E se le mangiarono Qui le occasioni da gol Che hanno creato Sono state relativamente poche Perché siamo stati bravi noi E in generale Difendiamo meglio del Real Madrid Ma se no non so come si metteva Io non lo so come si metteva Allora è un pareggio d'oro Da cui dobbiamo trarre Il buono del gol Fuori casa E sperare di vincere in casa Facendo però una prestazione diversa Ora se perdere 2 a 0 Contro l'Atletico Madrid Ci ha portati a fare tre settimane Di giuste critiche e polemiche Giuste e giustissime critiche E polemiche sacrosante Spingendo la squadra Ad una reazione Non so se questo 1 a 1 Con questa orribile Orribile prestazione Basterà Per dare la scossa decisiva Speriamo di sì E chiudo Con un velo pietoso Chiudo con il velo pietoso Di Mario Mandzukic Allora Basta Cioè ragazzi Basta Allora Mario Mandzukic Deve andarsene Mario Mandzukic Da questo momento Deve smettere di essere Un calciatore Della Juventus Se ne deve andare Non è più tollerabile Non è più sopportabile Non è più perdonabile Un giocatore Un giocatore Che non è in grado Di stoppare un pallone Che non è in grado Di vincere un duello Che non è in grado Di fare un appoggio Un giocatore dannoso Nocivo Per tutti i palloni Che ha perso Esponendoci alle ripartenze Mario Mandzukic Se ne deve andare Dalla Juventus Prendo posizione Mettendoci la faccia Non me ne frega niente Di tutto quello Che mi direte Delle cavallette Che mi arriveranno Qui su Twitter Eh Adsim Vuole mandar via Mandzukic Non capisce niente Di calcio Non me ne frega Io la partita L'ho vista Ho sofferto A vedere un cadavere Che è stato tenuto In campo Per 60 minuti Di troppo 60 minuti Di vita Rubati All'universo Da parte Di Mario Mandzukic 60 minuti Rubati Al calcio E mi fermo qui Spazio dei commenti Per voi Domani Live reaction Dalla live In diretta Durante la partita E analisi tattica Che sarà Abbastanza Abbastanza Deprimente Ci vediamo allora Nei commenti Passate anche in descrizione Per seguirmi Su tutti Su tutti i social Cliccando sui vari link Soprattutto su Instagram Iscrivetevi al canale Naturalmente Se ancora non l'avete fatto Non dimenticate di attivare La campanella Delle notifiche Per ricevere le notifiche Sui prossimi Video che usciranno Mettete like Sono un po' anche in confusione A presto E sempre Forza Juve Grazie